A poche ore dalla scadenza della seconda proroga concessa dal comune di Arezzo sono iniziati i lavori di svuotamento nel cantiere di via Fabio Filzi ad Arezzo dove dovrebbe sorgere la nuova sede della Polizia Municipale ma che ultimamente si era riempito di acqua piovana e acqua di falda. L'ordinanza del sindaco imponeva la proprietà di ripristinare le condizioni di sicurezza. Sul caso era intervenuta anche l'ASL e il comitato di cittadini ha presentato ben due esposti. La proroga era stata concessa per consentire specifiche analisi prima di poter scaricare i liquidi nella fognatura pubblica come in effetti oggi l'azienda incaricata ha fatto. Quella di oggi è indubbiamente una buona notizia almeno sotto il profilo della salute e della tutela delle abitazioni adiacenti ma la preoccupazione resta. I rifiuti che sono prospicenti l'immobile dovranno essere rimossi e i residenti chiedono a gran voce il ripristino anche dei parcheggi. Ci sono poi le frequentazioni di chi lo usa come dormitorio segnala ormai da tempo i residenti per spacciare o per consumare droga. Insomma la pace per questa zona della città sembra essere ancora molto lontana.